Salve e benvenuti a Qui Regione, l'appuntamento con le notizie dal Consiglio regionale della Toscana. Parliamo di mafia. Gli immobili confiscati in Toscana potranno essere assegnati alle vittime di reati associativi. È quanto prevede la proposta di legge al Parlamento presentata dal gruppo Fratelli d'Italia e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata potranno essere assegnati alle vittime di mafia per uso abitativo. È quanto prevede una legge al Parlamento presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia ma che ha trovato, come ha spiegato Giacomo Bugliani del PD nella relazione illustrativa, una convergenza in Commissione Affari Istituzionali con un testo sostitutivo che recepiva le osservazioni del legislativo di Fratelli d'Italia e che poi è stata approvata l'unanimità dal Consiglio regionale. Il Consiglio regionale ha presentato, ha deciso di approvare, quindi di presentare al Parlamento italiano una proposta di legge che riguarda la destinazione degli immobili che sono confiscati alle mafie. In particolar modo l'obiettivo di questa proposta di legge è quello di estendere i possibili assegnatari in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Si stabilisce infatti che questi immobili oggi possano essere anche concessi a titolo gratuito per un massimo di cinque anni a coloro che sono risultati vittime dei reati di mafia, di cui è l'articolo 416 bis del Codice Penale, ma anche tutti i reati che sono stati commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso. Il presupposto è che chi è stato vittima abbia determinati requisiti reddituali e che soprattutto si sia costituito parte civile nel processo penale ottenendo una provvisionale o una condanna che non sia stata eseguita dal punto di vista risarcitorio oppure a prescindere dalla costituzione di parte civile nel processo penale abbia deciso di avviare un'autonoma azione risarcitoria in sede civile e non abbia ancora ottenuto ristoro. Con questa legge quindi potranno questi immobili essere assegnati in uso anche a queste categorie di persone che sono persone che anche in virtù delle diverse forme di collaborazione che hanno reso con la giustizia nella repressione dei reati di mafia possono avere necessità impellenti di poter fruire di beni immobili alternativi alla loro precedente abitazione. L'atto introduce la possibilità per le vittime di reati associativi di poter usufruire di questi immobili e in particolare in situazioni di disagio con reddito non superiore a 36 mila euro. Una proposta di legge che va a colmare una delle lacune più strane della legislazione nazionale. Ha detto proprio così Francesco Torselli di Fratelli d'Italia perché prevede una serie di utilizzi dei beni confiscati alla criminalità organizzata ma tra questi non vi era quello di poter utilizzare questi beni come abitazione da parte di chi magari ha perso la propria casa in virtù di un atto criminoso. Io credo che oggi sia un bel momento per tutta la Toscana non soltanto per Fratelli d'Italia perché se è vero che la proposta parte dal nostro gruppo consigliare è vero che è stata votata all'unanimità sia dalla prima commissione che oggi dal Consiglio tutto e credo sia veramente un bel momento per la Toscana. Sappiamo bene purtroppo che chi ha il coraggio di denunciare la criminalità organizzata, di dissociarsi dalla criminalità organizzata, di non sottostare al racket della criminalità organizzata sappiamo che una delle punizioni a cui vanno incontro queste persone è quella di vedersi minacciata la propria abitazione e quindi spesso queste persone che hanno il coraggio di ribellarsi alla mafia vedono la propria casa ridotta a un cumulo di macerie o di cenere. Sulla stessa lunghezza d'onda anche la Lega. È una proposta di legge al Parlamento che va a superare i limiti del codice antimafia perché il codice antimafia detta dei limiti per la destinazione d'uso che questa proposta di legge va a superare. Per questo noi siamo d'accordo in particolare perché chi è vittima di reati di mafia possa usufruire dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Lo diciamo forte e chiaro. Anche le vittime dei reati devono essere in qualche modo indennizzate e compensate se hanno dei problemi di carattere finanziario economico. Quello che voglio dire è soprattutto però che il Parlamento poi dovrebbe accogliere queste proposte di legge che hanno una loro ragionevolezza e un loro significato. Abbiamo visto invece come purtroppo assai spesso queste proposte di legge al Parlamento cadano nel vuoto e questo non è un bel segnale di rapporti positivi tra il Parlamento, tra Roma e le regioni. Le nuove tecnologie legate alla comunicazione portano alla necessità di un nuovo quadro normativo. Questo è il tema dell'incontro tenuto a Firenze tra i comitati Corecom di tutta Italia e il Presidente Mazzeo in vestiti delegato dei consigli regionali. Un incontro che vede al centro la comunicazione e le nuove tecnologie che ne hanno cambiato il volto. Attorno al tavolo, in presenza e da remoto, gli attori principali chiamati a regolamentare il nuovo scenario, i Corecom e i consigli regionali. Un incontro organizzato a Firenze, a cui hanno partecipato i comitati da tutta Italia e il Presidente dell'Assise Toscano, Antonio Mazzeo, in vestiti delegato dai consigli regionali con i rapporti con il Corecom. All'ordine del giorno, il confronto sul prossimo accordo quadro con l'autorità nazionale per le comunicazioni dell'Agicom, dal momento che quello attualmente in vigore scadrà il 31 dicembre prossimo. Un documento in cui regolamentare la comunicazione anche sulla base dei suoi cambiamenti. La nuova tecnologia che cambia la velocità della luce richiede necessariamente dei nuovi modelli per poter affrontare le modifiche e quindi questo diventa un primo passaggio per coordinare i comitati regionali con i consigli regionali. Non solo, entro la fine dell'anno dovrà essere firmato il nuovo accordo quadro tra Agicom, che è l'autorità garante per le comunicazioni di livello nazionale, e i Corecom, le autorità locali. E quindi, visto che i consigli regionali hanno un ruolo da protagonista nella stesura di questo nuovo accordo quadro, diventa importante questo momento di confronto. Il mondo sta cambiando, le comunicazioni stanno cambiando, le deleghe sono molto differenti rispetto al passato, ci sono anche differenze tra i Corecom regionali, perché poi le funzioni proprie di ogni Corecom sono differenti, mentre le deleghe che vengono date da Agicom sono simili. Il nostro obiettivo è quello di cercare di trovare le condizioni per offrire sempre un servizio migliore ai cittadini. Un altro tema dibattuto è stato quello relativo alla legge sulla par condicio, che, secondo la coordinatrice nazionale Sala, andrebbe quantomeno aggiornata. Siamo tenuti a vigilare sul rispetto della norma, dice, ma chiediamo un'interpretazione più agile e snella. Il tavolo proposto dal presidente Mazzeo può essere un buon inizio per confrontarci anche su questo tema di certo molto attuale. Presentata in Consiglio regionale la nuova succursale dell'Università di Zhejiang, Repubblica Cinese, che dal prossimo anno accademico sarà ospitata nell'Istituto Superiore Peruzzi di Firenze. Dalla Cina alla Toscana, il Consiglio regionale ha dato il benvenuto alla sede italiana dell'Università Normale del Zhejiang, che dal prossimo anno accademico 2022-2023 sarà ospitata nell'Istituto Superiore Sassetti Peruzzi di Firenze. La presentazione ufficiale è stata celebrata nella Sala del Gonfalone di Palazzo del Pegaso, con il plauso e la soddisfazione della Presidente della Commissione Diritto allo Studio e Istruzione, Cristina Giacchi. Diamo il benvenuto all'Università Normale del Zhejiang, che aprirà una sede a Firenze. Siamo sempre contenti quando si moltiplicano le occasioni di conoscenza reciproca, di approfondimento e di studio per i nostri studenti e per gli studenti di tutto il mondo che scelgono Firenze e la Toscana come loro luogo di elezione. Credo che sarà importante in futuro formarsi insieme sui molti temi della relazione tra gli uomini, la linguistica, la psicologia, la scienza dell'educazione, perché abbiamo bisogno di intercultura, abbiamo bisogno di formarci, approfondire la conoscenza, realizzare e far realizzare ai nostri cittadini e cittadine più giovani che si può essere in molti modi, che la vita è multiforme e che c'è una bellezza, un frammento di verità custodito in ognuno dei popoli, delle tradizioni, delle culture che noi incontriamo. Il benvenuto caldo arriva anche dal remoto dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Abbiamo avuto modo tutti di poterla apprezzare vedendo la sua offerta culturale di portata mondiale quando nel 2016, sembra un'era fama, insomma sono sei anni fa, ha ospitato il Summit del G20. Noi abbiamo accolto con estremo favore la proposta della storica e prestigiosa Università Normale del Ziajiang di stabilire proprio qui in Toscana, a Firenze, la prima scuola. Una collaborazione importante, una collaborazione che ci permetterà di guardare anche al futuro, al futuro di rapporti tesi a consolidare non solo le amicizie tra i nostri popoli, ma anche le opportunità, opportunità culturali, opportunità di ricerca, opportunità di costruire anche scambi commerciali. Approvata a maggioranza la relazione 2021 del garante toscano dei detenuti Giuseppe Fanfani. Raccomandazioni per assicurare la finalità rieducativa della pena e il reinserimento sociale. Salute mentale dei detenuti, sistema delle REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza e completamento del sistema sanitario in carcere. Non solo, quanto già fatto in positivo deve essere monitorato e implementato, è quanto chiede la proposta di risoluzione approvata a maggioranza in Consiglio regionale con 22 voti a favore e 10 contrari, redatta sulla base dell'attività svolta dal garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani. Nell'atto illustrato dal presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani del PD, si ribadisce anche l'impegno ad assicurare la finalità rieducativa della pena, il reinserimento sociale dei condannati e l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali in tutte le strutture penitenziarie. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione dell'attività del garante dei detenuti per l'anno 2021 e anche il programma di attività per il 2022, una relazione che ci offre un quadro del sistema carcerario toscano, evidenza le problematiche dell'affollamento, mette in luce le caratteristiche strutturali degli istituti di pena, delle REMS e anche dei carceri minorili della Toscana e si concentra sul tema della tutela della salute dei detenuti. Del resto la vocazione del garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà è proprio quella di prendere in considerazione la tutela della salute, non soltanto fisica ma anche psichica, della popolazione carceraria e il contatto che il garante ha con questo mondo viene anche dalle numerose istanze che vengono presentate dalla popolazione carceraria e prese in carico proprio dal garante. Riguardo alla situazione sanitaria, scrive il garante Fanfani nella sua relazione, poi ripresa dal Consiglio regionale, dopo due anni difficili dovuti alla pandemia in cui si sono verificate e anche rivolte, gli ultimi dati che risalgono ai giorni scorsi evidenziano otto detenuti, cinque guardie carcerarie e un infermiere ancora positivi. Una situazione dunque assolutamente sotto controllo. Permangono invece i problemi del sovraffollamento, anche se dal 2019, a seguito di misure per ridurre gli ingressi e favorire le scarcerazioni, i detenuti in Toscana sono diminuiti di circa 500 unità. Abbiamo votato anche quest'anno contro la relazione del garante dei detenuti. La prima osservazione che mi viene da fare è che in sé la figura del garante dei detenuti è superata. Occorrerebbe una figura di tutela per chi opera e vive nel mondo carcerario, al di là dei detenuti anche le guardie carcerarie e gli educatori. Sono figure che meritano anch'esse considerazione e tutela da parte delle istituzioni. Abbiamo votato contro la relazione del garante che troviamo non condivisibile in numerose sue parti. In particolare per quanto riguarda quella concezione per cui sarebbe quasi la società malata a dare lo spunto, a creare le basi per la produzione di reati. Noi invece diciamo che la responsabilità penale, secondo il dettato costituzionale, è personale. Vero è che le pene devono tendere alla rieducazione di coloro che hanno commesso degli sbagli, ma è il principio per cui chi sbaglia paga deve trovare finalmente attuazione anche nel nostro Paese. Al 31 dicembre scorso in Toscana i detenuti erano 3028, di cui circa il 50% stranieri. La stragrande maggioranza degli stranieri è in carcere per motivi legati al consumo o allo spaccio di stupefacenti. Restano alti i numeri legati ai tentativi di suicidio e agli atti di autolesionismo, mentre i suicidi registrati nel 2021 sono due. Molti comuni invece non hanno ancora nominato i garanti per detenuti locali e permane anche la difficoltà di avere adeguata assistenza sanitaria in alcune strutture, come per esempio quella di San Gimignano, che è isolata e presenta una popolazione carceraria importante di circa 250 detenuti. Riguardo infine alle REMS in Toscana, dopo la chiusura dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, sono attive due strutture, una a Volterra e una a Empoli. Rivolterra ospita attualmente 26 persone, destinate a salire a 40, mentre Empoli ne ospita 9, destinate a salire a 20. Questo fine settimana torna a Sansepolcro Borgo Jazz, la rassegna che porta sul palco i più grandi artisti del genere, costellata da varie iniziative che si terranno nel centro storico. Luglio a Sansepolcro inizia al ritmo di musica, grazie a Borgo Jazz, che torna a far risuonare piazze, vie e luoghi del centro storico con artisti di spicco del panorama locale e internazionale. Il ricco calendario di eventi si svolgerà dall'1 al 4 luglio sotto la direzione artistica di Lucia Cristini e dell'associazione commercianti del centro storico che hanno visto particolarmente partecipe nell'organizzazione la presidente Sonia Fortunato, oltre alla collaborazione di confesercenti, confcommercio e il supporto del comune di Sansepolcro. Quattro giorni di musica, spettacoli e intrattenimento con tantissimi artisti, fra cui grandi nomi del panorama jazz. Abbiamo puntato sull'animazione di tutto il centro storico, abbiamo collocato della street music di qualità e coordinata in modo tale che non faccia confusione. Poi abbiamo dei concerti di qualità con degli esponenti di grido, dei musicisti a tutto tondo, in varie location, sempre di Sansepolcro e sempre nel centro storico di Sansepolcro. Abbiamo come primo concerto il trio di Andrea Rea in piazza Garibaldi che presenterà il suo nuovo disco, Il Viajero, che è stato considerato fra i migliori dischi del 2021. E poi Fabrizio Bosso, special guest, Giobelli e Luca Marianini, solo per fare alcuni esempi. Questa è una manifestazione della musica e pensiamo che quest'anno sia veramente di qualità e sono grato e anche felice di essere il sindaco da poco eletto che possa in qualche maniera partecipare e contribuire a questa manifestazione. Questa è una manifestazione nata nel 2018, siamo alla terza edizione. Inizialmente le due prime edizioni sono state molto semplici perché strutturate sono in street music. Poi quest'anno dopo la pandemia siamo ripartiti e abbiamo pensato ad allargare, ad ingrandire, ad avvelire di più tutto l'evento per portare più gente nei nostri locali, nei nostri negozi, per il nostro corso, perché Sansepolcro è una città d'arte, no? È stato appena detto. E niente, la nostra chermesse è una chermesse, permettetemelo di dirlo, di qualità in questo momento. E inizieremo proprio per questo con i nostri sbandieratori che inaugureranno Borgogets per poi finire a Porto Romana che è bellissima, con un'altra postazione sempre degna della cosa. L'evento è stato presentato in regione, dove si plaude alla voglia di ripartire dopo anni difficili. Sarà un'iniziativa musicale con artisti giovani, ma c'è la fama internazionale, street music, ma saranno abbinate anche due mostre fotografiche di valore e ci sarà anche la parata degli sbandieratori di Sansepolcro. Quindi ecco, dal punto di vista proprio della rassegna, rassegna completa, che sa attrarre, ripeto, visitatori. Borgo è veramente straordinario, lo conosciamo tutti, specialmente ad Arezzo, ma è bene che lo conoscono anche fuori dalla provincia di Arezzo. E questa è una delle occasioni per far arrivare nuove persone anche a Borgo Sansepolcro. Ormai la Toscana è davvero un pullulare di iniziative, ma Sansepolcro sarà in questi giorni la capitale italiana del jazz. È davvero bello poterci trovare oggi qui, poter raccontare la voglia anche di tanti ragazzi, di tanti ragazzi, dei commercianti, di voler ripartire, perché questo è un progetto collettivo, un progetto che nasce dalla volontà dell'amministrazione, ma la sua terza edizione coinvolge tanti pezzi importanti della vita della nostra comunità. È bello sapere che i giovani, i commercianti, spingono anche noi, istituzioni, a cercare di fare il meglio e di offrire proposte di rilancio e di ripartenza per il nostro territorio. Era questo l'ultimo servizio, qui finisce, qui Regione. Grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di Visione qua su TV9. Grazie a tutti.